Benvenuti a questa lezione di Sistemi Informativi Aziendali in cui parleremo dei casi d'uso. Nella lezione precedente, in cui avevamo introdotto i requisiti, avevamo parlato di una versione semplificata di un documento di requisiti in cui, dopo una parte introduttiva di contesto e obiettivo del sistema e un glossario, veniva la parte relativa a quelli che sono i casi d'uso, ovvero la parte funzionale di descrizione del sistema informativo. Nel contesto delle diverse viste che abbiamo a disposizione in un caso d'uso, vi ricordo che nel modello informativo abbiamo un modello tecnologico, un modello organizzativo e un modello funzionale, all'interno del modello funzionale abbiamo i processi, abbiamo i dati, quindi i modelli di processo, i modelli informativi, e poi abbiamo quelli che sono i casi d'uso. Un piccolo cenno storico, i casi d'uso sono stati introdotti nel 1992 da Ibra Jacobson come una tecnica per andare a visualizzare i requisiti in maniera visuale. Hanno avuto un'adozione ampia a partire dagli anni 90, soprattutto nel contesto dello sviluppo orientato agli oggetti. Iniziamo con quella che è una definizione molto semplice e sintetica di un caso d'uso. Allora un caso d'uso è una descrizione orientata a un obiettivo di un insieme di interazioni tra attori esterni e il sistema che stiamo considerando. Quindi quali sono gli elementi fondamentali? Sono quelli che sono evidenziati qui. Noi abbiamo uno o più attori, ovvero normalmente esseri umani, utenti che interagiscono col sistema, il sistema stesso, il caso d'uso si basa su quello che è un obiettivo dei nostri attori e per raggiungere l'obiettivo l'attore utilizza il sistema informativo tramite una serie di interazioni. Quindi le interazioni rappresentano il modo con cui l'attore e il sistema informativo dialogano tra di loro e permettono sostanzialmente all'attore di raggiungere i propri obiettivi. Altri elementi importanti e fondamentali che dobbiamo andare a descrivere oltre all'obiettivo e alle interazioni sono gli attori stessi. Che cos'è un attore? Normalmente l'attore è qualcuno che è coinvolto con il sistema, che interagisce. Il sistema è importante ricordare che viene trattato, per quanto riguarda i casi d'uso, come una scatola nera. Ricordiamoci che stiamo descrivendo dei requisiti. Quindi i requisiti ci dicono che cosa deve fare il sistema, non il come. Quindi non entriamo nel dettaglio della struttura interna del sistema, se non per sommi capi, quando parliamo di macrosistemi che costituiscono il nostro sistema informativo, ma restiamo nel vedere come il sistema interagisce con i nostri utenti. Il punto di partenza fondamentale all'interno del nostro caso d'uso è l'obiettivo. Quindi il nostro attore sostanzialmente, che cosa fa? Interagisce con il sistema per un particolare obiettivo. Dobbiamo ovviamente andare a dare anche una descrizione del caso d'uso. In particolare dobbiamo andare a descrivere passo per passo le interazioni che l'attore ha con il sistema. Ricordiamoci che le interazioni sono comunque finalizzate a raggiungere quello che è l'obiettivo. L'obiettivo, che è il punto di partenza, che è la motivazione che spinge l'attore a interagire col sistema. Quindi diciamo che l'assunzione generale che sta sotto questo approccio è che il sistema informativo è un qualcosa che è lì a disposizione e consente all'attore di raggiungere i propri obiettivi, quindi supporta l'attore nel fare le proprie attività. L'attore che cos'è? È un qualcuno o qualcosa che sta al di fuori del sistema. Molto spesso andiamo a distinguere tra due tipologie di attori, che sono gli attori primari, ovvero quelli che hanno un obiettivo che li porta a interagire col sistema, e attori che secondari, che sostanzialmente non motivano il caso d'uso in sé, ma sostanzialmente aiutano. Aiutano, quindi danno un supporto, forniscono informazioni, dei servizi e quant'altro, al sistema informativo e quindi aiutano l'attore primario a raggiungere l'obiettivo, o meglio, aiutano il sistema informativo a permettere all'attore primario di raggiungere l'obiettivo. Quindi, che cos'è l'attore? L'attore è qualcuno o qualcosa di esterno al sistema, e quindi che interagisce con esso, normalmente in maniera diretta. Tutti quelli che interagiscono in maniera indiretta col sistema non sono attori rilevanti. E' bene tenere presente, quando andiamo a trattare gli attori, andare a definirli, che è possibile che esistano anche degli attori che non sono esseri umani, ma sono altri sistemi informativi, dei sistemi legacy, dispositivi che danno una qualche interazione con il sistema informativo. Sono un lettore di codice a barre. E quindi è importante capire quali sono gli attori. Tenete presente che sono gli stessi attori, o comunque buona parte, gli stessi attori che interagiscono col sistema e vengono rappresentati all'interno di un diagramma di processo. Gli obiettivi. Gli obiettivi sono sostanzialmente il motivo per cui un attore vuole interagire col sistema. Sostanzialmente vuole fare qualcosa e si aspetta un certo aiuto da parte del sistema informativo. Normalmente un obiettivo deve essere qualcosa che è di valore per il nostro attore, per cui se andiamo a pensare all'interazione di un utente con un bancomat, inserire il codice PIN non è un obiettivo, perché normalmente, tranne chi ha una passione per l'inserimento di codici PIN, non ha nessun valore, ritirare del contante, ecco, questo sì che è un obiettivo che ha un qualche valore, un significato per un tipico attore. Per andare a definire gli obiettivi è possibile utilizzare una tecnica chiamata delle user story che ci suggerisce di andare a descrivere un obiettivo secondo questo formato. Come un certo tipo di attore io voglio fare qualcosa in modo che ci sia un qualche valore sostanzialmente per me attore che interagisce col sistema. Per cui, ad esempio, come un utente di una banca o cliente di una banca voglio eseguire un prelievo in modo tale che possa avere del contante per me. Ovviamente oltre agli attori che interagiscono direttamente col sistema esistono anche altri portatori di interesse ovvero persone che hanno un qualche interesse che il sistema si comporti in un certo modo. Per cui in generale noi andiamo a definire come stakeholder chiunque abbia qualche interesse più o meno evidente nei confronti del sistema o del caso d'uso che stiamo andando a considerare. Ovviamente gli attori utenti del sistema sono degli stakeholder quindi hanno un interesse che il sistema gli permette di raggiungere l'obiettivo. però ci sono anche altri elementi che sono al di fuori e non interagiscono direttamente con il sistema. Sono quelli che ad esempio possiedono il sistema gestiscono l'azienda quindi magari non interagiscono direttamente con il sistema ma comunque hanno un interesse perché il sistema si comporti in un certo modo. quando parliamo di caso d'uso è bene andare a definire quello che è il contesto scope in inglese del sistema informativo ovvero ciò che dovrà essere sviluppato che non esiste e che non è parte di un lavoro di altre persone. Ovviamente se devo sviluppare un sistema devo chiaramente capire cosa già esiste perché magari posso utilizzare che so pezzi di sistema che già esistono appoggiarmi a quelli ad esempio se esiste già un sistema di autenticazione non devo andare a rifare devo occuparmi soltanto del software devo occuparmi dell'hardware ecco tutto ciò è importante definirlo prima di poter andare a definire bene i requisiti ovviamente non vado a definire dei requisiti per quello che non mi compete e non devo fare io. una tecnica per andare a definire bene che cosa sta all'interno del perimetro del sistema informativo e cosa è fuori è quella che si chiama una in-loud list ovvero vado a definire tutto ciò che il sistema deve fare in un qualche modo gli attori gli stakeholder si aspettano dal sistema in generale quindi non specificamente dal mio sistema informativo e poi vado a indicare cosa effettivamente è sotto la mia responsabilità quindi sotto la responsabilità del sistema informativo che sto andando a descrivere e cosa invece è fuori perché già esiste è fatto da altri o comunque non devo andare a svilupparlo all'interno del mio sistema informativo in generale quello che faccio è poi andare a descrivere in maniera molto ampia quali sono gli attori e quali sono i loro obiettivi utilizzando un diagramma di questo tipo che è detto un diagramma dei casi d'uso quindi proviamo ad approfondire un po' meglio che cos'è un diagramma dei casi d'uso che è una notazione ben definita all'interno dei diagrammi forniti da UML e ci permette di andare a descrivere il contesto in cui si muove il nostro sistema informativo quali sono gli elementi fondamentali che costituiscono un diagramma dei casi d'uso innanzitutto ci sono gli attori rappresentati in quella maniera stilizzata attenzione anche se l'attore è un altro sistema informativo comunque si utilizza sempre lo stesso tipo di simbolo quindi non è necessariamente umano anche se l'aspetto è pagamente quello gli attori sono sempre rappresentati in quel modo abbiamo poi i casi d'uso ovvero gli aspetti fondamentali le funzionalità fondamentali che il sistema deve offrire abbiamo detto che il punto di partenza per i casi d'uso sono gli obiettivi e quindi un caso d'uso corrisponderà a un obiettivo che deve essere raggiunto da un attore e quindi all'interno del caso d'uso noi andremo a descrivere qual è l'obiettivo ovviamente in maniera molto sintetica neanche utilizzando il template che abbiamo visto prima quindi come un certo tipo di attore voglio poter fare qualcosa al fine di ottenere un certo valore ma ancora più sintetica quindi un'etichetta una o due parole in modo che sia facilmente leggibile da un punto di vista grafico oltre agli attori e casi d'uso abbiamo ovviamente qualcosa che li lega quelle che sono le partecipazioni quindi quando io vado a legare un attore con un caso d'uso quello che ottengo è una linea o eventualmente una spezzata che mi indica sostanzialmente che l'attore partecipa al caso d'uso se non dico nulla normalmente significa che l'attore è quello che partecipa al caso d'uso perché vuole raggiungere un proprio obiettivo nel caso in cui siano presenti degli attori di supporto o secondari ecco normalmente vado a scrivere in una notazione sopra l'associazione quindi il legame tra il caso d'uso e l'attore questo stereotipo che si chiama support che indica per l'appunto che quell'attore partecipa al caso d'uso ma non perché vuole raggiungere un proprio obiettivo ma perché è di supporto al raggiungimento di un obiettivo di quello che è l'attore primario a volte può essere utile andare esplicitamente a indicare se è l'attore che ha avviato il caso d'uso quindi vediamo una freccia che va dall'attore verso il caso d'uso e questo significa che è l'attore che ha avviato il caso d'uso oppure viceversa se è il caso d'uso che ha coinvolto l'attore quindi in un caso è l'attore che inizia a interagire inserisce la tessera nel bancomat oppure nell'altro caso è il sistema che coinvolge l'attore quindi immaginate qualcosa di estemporaneo non atteso dal nostro attore che so una chiamata sul vostro cellulare ecco è il sistema cellulare che vi chiama vi informa che c'è una chiamata e quindi l'avvio del caso d'uso quindi la conversazione telefonica non lo fate voi ma è il sistema che inizia con un avviso e quindi voi andate a accettare o rifiutare la chiamata e quindi rispondete a una sollecitazione da parte del sistema in questo caso in quest'ultimo caso ovviamente la freccia va dal caso d'uso verso l'attore indicando che è il caso d'uso il sistema che per svolgere il caso d'uso coinvolge l'attore il quale poi ovviamente collabora e interagisce col sistema sempre all'interno dei diagrammi dei casi d'uso è possibile utilizzare dei legami tra diversi casi d'uso tra cui quello più comunemente utilizzato è l'inclusione quindi posso andare invece di descrivere tutti i passaggi nel dettaglio che avvengono tra l'attore e il caso d'uso posso andare a dire è che una parte di quei passaggi che magari sono si ritrovano allo stesso modo in tanti altri casi d'uso sono inclusi quindi ad esempio in quest'esempio che vediamo nel lucido abbiamo un attore cliente che ha due casi d'uso partecipa a due casi d'uso che sono il prelievo del contante e la ricarica del telefono e entrambi includono un altro caso d'uso che si chiama autenticazione quindi sia nel caso del prelievo di contanti che nel caso di ricarica del telefono ho la necessità di fare un'autenticazione quindi è come se avessi una chiamata una sottoprocedura un sotto caso d'uso che è incluso in entrambi a volte quando ho diverse tipologie di attori è possibile che un certo tipo di attore possa svolgere partecipare a tutti i casi d'uso di un altro e in più avere dei casi d'uso propri specifici questo è possibile andarlo a specificare con una generalizzazione tra attori quindi nell'esempio che vediamo abbiamo due attori che sono l'utente normale e l'amministratore l'utente può visualizzare un ordine l'amministratore può definire i permessi ovviamente l'amministratore può anche tranquillamente andare a visualizzare l'ordine quindi andiamo a dire che l'amministratore è una specializzazione dell'utente dove la specializzazione prevede l'aggiunta di altri casi d'uso quindi quando vado a dire che l'amministratore è una specializzazione dell'utente significa che l'amministratore può comunque partecipare ai casi d'uso a cui partecipa l'utente e inoltre ha dei propri casi d'uso ultimo tipo di relazione che può essere rappresentata all'interno di un diagramma dei casi d'uso è quella di estensione può succedere quando interagire con un sistema che un certo caso d'uso quindi una certa serie di interazioni termini oppure che in un caso particolare possa proseguire con un altro caso d'uso per cui come nell'esempio un cliente può andare a scorrere il catalogo di ad esempio un sistema di commercio elettronico e poi può andare a comprare il prodotto ecco quello che succede è che normalmente il nostro cliente scorre il catalogo e poi compra il prodotto quindi l'acquisto del prodotto è una possibile estensione dello scorrimento del catalogo ma il nostro cliente potrebbe semplicemente scorrere il catalogo e quindi essere contento perché ha avuto nuove informazioni sui prodotti e però non fare nessun acquisto quindi la parte di estensione quindi il comprare il prodotto in questo esempio può essere un naturale proseguimento dell'altro caso d'uso ma non è necessario che sia presente quindi l'altro caso d'uso potrebbe esistere tranquillamente quindi avere un senso fornire diciamo un valore al nostro attore anche senza il proseguimento vediamo un esempio di diagramma di casi d'uso questo rappresenta sostanzialmente un sistema tipo un bancomat di prelievo quali sono gli attori che sono coinvolti abbiamo il cliente un impiegato e la banca ovviamente cliente e impiegato sono degli attori umani che interagiscono in qualche modo col sistema informativo la banca è un altro sistema informativo quindi il nostro bancomat colloquerà con il sistema informativo della banca per andare a chiedere le autenticazioni le autorizzazioni eccetera quali sono i casi d'uso beh allora il nostro cliente può interagire con il sistema bancomat per tre motivi ritirare il contante ricaricare il telefono oppure visualizzare il saldo del proprio conto corrente invece l'impiegato interagisce col sistema per andare a ricaricare il contante quindi ci sarà una certa procedura ferma l'uso del funzionamento del bancomat ricarica il contante e poi riavvia la procedura le procedure normali del bancomat le attività o meglio le interazioni che riguardano il prelievo del contante e la ricarica del telefono ma probabilmente anche per quanto riguarda la visualizzazione del saldo richiedono un'autenticazione quindi devo essere sicuro che chi è di fronte a me sia effettivamente il proprietario del conto da cui voglio andare a prelevare del contante per cui sia il ritiro del contante che la ricarica del telefono includono un'autenticazione entrambi comportano un trasferimento di soldi quindi devo avere un'autorizzazione da parte della banca che mi dica che effettivamente quella somma è disponibile e può essere effettivamente utilizzata dal cliente quindi questi due sotto casi d'uso permettono di andare a descrivere una parte di interazione che avviene sia nel prelievo del contante che nella ricarica del telefono e che è sostanzialmente ripetuta per cui ho questa relazione di inclusione e quindi è come se avessi un pezzo di interazione che è descritto separatamente ma è incluso all'interno di quelli principali la banca vedete è legata all'autenticazione e all'autorizzazione come un attività di supporto come un attore di supporto perché in questa interazione l'obiettivo non è quello della banca di fare qualcosa ma è l'obiettivo del cliente di autenticarsi per poter prelevare il contante o di avere l'autorizzazione per poter prelevare il contante o ricaricare il telefono quindi in questo esempio vediamo alcuni casi d'uso quelli sulla sinistra che sono diciamo più importanti più rilevanti e quelli sulla destra che invece hanno un livello di dettaglio molto più basso e non rappresentano chiaramente un obiettivo evidente e di valore per il nostro cliente in generale è possibile andare a identificare tre livelli di granularità per i casi d'uso uno è quello che si chiama un livello summary che sostanzialmente ci dà una visione molto dall'alto il livello intermedio è quello che chiamiamo user goal ovvero è un caso d'uso che corrisponde a un obiettivo effettivo e di valore per un attore e poi abbiamo quelle che sono le sotto funzioni che sono dei dettagli minimi che normalmente non corrispondono a un chiaro obiettivo dell'utente è un sotto obiettivo al massimo quindi utilizzeremo dei casi d'uso di livello summary per andare a descrivere quelli che sono delle macro attività degli insiemi di attività e di interazione molto ampi che un attore può avere con il sistema informativo se volete possiamo andare a descrivere dei casi d'uso di livello summary come una specie di indice e immaginare che all'interno di ogni caso d'uso di livello summary esplodendo possiamo trovare dei casi d'uso di livello più basso che quindi corrispondono a delle esigenze ben precise e puntuali degli attori come raggruppate e descritte in maniera sintetica dal caso d'uso di livello summary per cui tornando al caso del bankomat il cliente può avere interazioni con il sistema per fare delle transazioni vedete qui ho indicato il summary dicendo che quel caso d'uso non è un caso d'uso normale di livello user goal è un qualcosa che raggruppa tanti casi d'uso di livello user goal che sono più specifici ok svolgere delle transazioni e sì può essere un obiettivo ma è molto molto di alto livello e vago la parte info è un altro caso d'uso di livello summary che al suo interno conterrà ad esempio il saldo del conto corrente l'impiegato interagisce con un caso d'uso di livello summary che si chiama maintenance che va a indicare una famiglia di casi d'uso di livello più basso user goal che invece sono significativi per l'impiegato perché corrispondono ai suoi compiti quotidiani i caso d'uso principali quelli di cui ci occupiamo e quelli che effettivamente danno valore alla descrizione del nostro sistema sono quelli di tipo user goal che descrivono un obiettivo di un attore primario che vuole fare qualcosa tramite o con l'aiuto del sistema informativo normalmente un caso d'uso è svolto da un'unica persona ok è molto raro che ci sia una collaborazione molto spesso se c'è una collaborazione di un attore di supporto è un altro sistema informativo quindi non è un essere umano sono svolti in unico luogo quindi descrivono una serie di eventi molto ben circoscritti nello spazio ma anche nel tempo quindi in un certo istante quindi hanno una durata limitata giusto per dare un'idea qualche minuto quindi quindi non descrivono un processo nel senso di BPMN una delle attività descritte in un processo BPMN ecco quello può essere un buon candidato a essere un caso d'uso di livello user goal normalmente nell'ipotesi migliore cosa succede il nostro attore si siede si mette di fronte al sistema informativo interagisce con lui quindi inserisce dei dati fa dei click legge delle informazioni e poi terminato il caso d'uso si può tranquillamente alzare e andarsene via contento e soddisfatto perché ha raggiunto il proprio obiettivo alla fine abbiamo menzionato anche quelli che sono i casi d'uso di livello subfunction ripeto sono delle sotto funzioni che aiutano a raggiungere degli obiettivi più di alto livello sono descritte molto spesso perché è comodo andare a riportare una sola volta una serie di interazioni che poi sono molto spesso incluse in altri casi d'uso di livello superiore normalmente user goal per cui tornando al nostro esempio del del banco mat i casi d'uso di sinistra sono quelli di livello user goal ritirare contante ricaricare il telefono mostrare il saldo ricaricare il contante l'autorizzazione e l'autenticazione invece sono due casi d'uso di tipo subfunction perché perché non danno un obiettivo di valore per il nostro cliente ma sono un sotto obiettivo necessario raggiungere un obiettivo principale quando andiamo a definire i casi d'uso è bene andare a cercare di trovare il giusto livello non devo usare dei livelli troppo alti quindi più di summary quindi un caso d'uso del tipo usare il sistema ecco è veramente poco specifico non è neanche di livello summary è ancora più alto non devo usare dei casi d'uso di livello troppo basso diciamo di livello sotto sotto funzione anche perché vorrebbe dire andare a dettagliare dei micro dettagli che probabilmente non sono ancora stati decisi e quindi andrei a definire dei vincoli troppo specifici quindi rischierei di sconfinare dalla specifica dei requisiti al design andando a mettere dei vincoli eccessivi normalmente c'è la tendenza ad essere molto molto specifici in generale quando abbiamo un caso d'uso ne abbiamo identificato uno dobbiamo porci sostanzialmente due domande che cos'è che l'attore il nostro attore primario effettivamente vuole se è quello che è descritto dal caso d'uso allora siamo sul giusto livello oppure perché l'attore vuole fare questo ad esempio se la risposta è per avere del contante va bene se magari mi interrogo andando a pensare all'autenticazione l'autenticazione perché che viene fatta dal nostro attore perché ragionevolmente è funzionale a poter fare il prelievo del contante quindi quando ho una risposta di questo tipo significa che probabilmente quel caso d'uso è troppo specifico quindi non è di livello user goal sarà classificato come di tipo subfunction allora questo è sostanzialmente quella che è una panoramica dei casi d'uso quindi abbiamo definito il caso d'uso in generale con quella che è la sua definizione quindi è una serie di interazioni tra un attore esterno e sistema con il fine di raggiungere un certo obiettivo e abbiamo visto che un modo di andare a descrivere i casi d'uso è tramite quello che è un diagramma dei casi d'uso attenzione il diagramma dei casi d'uso però non descrive il caso d'uso ci dice semplicemente il titolo il suo nome la descrizione è un qualcosa che è da fare in aggiunta il casi d'uso il diagramma dei casi d'uso sono molto utili perché come quello che vediamo qui ci danno un contesto generale del nostro sistema quindi ci dicono chi interagisce col sistema e perché lo fa attenzione i casi d'uso che vediamo qua sono tra i loro scorrelati se il sistema supporta un processo complesso è probabile che per i diversi casi d'uso avremo una corrispondenza nelle attività del processo è bene tenere presente che i due punti di vista del modello di processo e dei casi d'uso è molto diverso qui il nostro la nostra attenzione è agli attori quindi l'attore che si trova davanti al sistema che cosa vuole fare non ci interessa che voglia fare una certa attività perché quell'attività è parte di un processo più complesso semplicemente stiamo guardando il sistema dal punto di vista dei nostri diversi attori in modo da capire che cosa vogliono poter fare col sistema non ci interessa lo specifico processo all'interno del quale quella particolare attività o serie di attività viene svolta quindi quindi il prossimo passaggio sarà quello di andare a capire come posso descrivere nel dettaglio un caso d'uso ovvero come posso andare a dettagliare quelle che sono le singole interazioni che avvengono tra l'attore e il sistema informativo che avvengono